Il premio Nobel 2020 per la letteratura è andato alla poetessa statunitense Louise Gluck per la sua inconfundibile voce poetica, che con austera bellezza rende l'esistenza individuale universale. Si legge nella motivazione dell'Accademia di Stoccolma. Gluck, 77 anni, è nata a New York ed è docente all'Università di Yale. Nella sua opera, a carattere spesso autobiografico, spiccano i temi del desiderio della natura con numerosi riferimenti ai miti della classicità. La sua prima raccolta di poesie del 68, delle successive 12, solo due sono state tradotte in italiano. Iris Selvatico, 1992, vincitrice del premio Pulitzer e Averno, 2006. Il suo ultimo libro di poesie è stato premiato con il National Book Award. La mia grande felicità è il suono che fa la vostra voce, chiamandomi anche nella disperazione, il mio dolore che non posso rispondervi in parole che accettate come mie. Non avete fede nella vostra stessa lingua, così delegate, autorità, assegni che non potete leggere con alcuna precisione, eppure la vostra voce mi raggiunge sempre e io rispondo costantemente, la mia collera passa come passa l'inverno, la mia tenerezza dovrebbe esservi chiara, nella brezza della sera d'estate e nelle parole che diventano la vostra stessa risposta. La mia collera, la mia collera è stata diversa della magari non potente, Grazie a tutti.